Stai a RotTV? Sì, sì Mamma sei in diretta, non dire cazzate No, no, niente No, ascoltami Ma ascoltami, tutto bene? Sì, ma tutto bene Non si direbbe della tua voce Stamattina sono andata per sistemare gli occhiali Papà non si ricordava più Le volte che muovo la testa mi scendevano e per quello Ma hai sistemato lo sgalivolo? Sistemato? Sgalivolo Ti saluta tutto il pubblico Ciao mamma Ciao Enrica Enrica sei la persona più rock e roll che conosco Ti saluta tutta Rocchi Ciao Ciao Devastardici